A 14 il motorino, a 18 la patente, a 20 la prima vacanza con gli amici, a 30 la cena con la donna della tua vita e a 40 la sorpresa più bella. E non avere sorprese. E non avere sorprese. Dopo i 40 anni, più del 50% delle donne esegue un check-up medico completo. Solo il 15% degli uomini fa altrettanto. Sì uomo, non farti sorprendere. Non è che ci sarebbe posto anche domani, magari. Torno a controllare. Fino in fondo. Torno a controllare. Torno a controllare. Torno a controllare.